Ed ora con la nostra rubrica Fuori Porta andiamo a Castro Cielo in Ciociaria alla scoperta di un'antica tradizione che rivive tra i vicoli del borgo, il canto della palma. Isabella Di Chio. Andiamo Fuori Porta, facciamo tappa a Castro Cielo per conoscere la storia di Angelo insieme agli altri abitanti di questo comune della Ciociaria ancora porta avanti l'antica tradizione del canto della palma nel periodo pasquale. Andiamo. E' un canto che oramai è ultracentenario, insomma tramandato dai nostri nonni, parliamo veramente verso la fine del Novecento, e viene portato casa per casa la Domenica delle Palme appunto per dare un messaggio di pace a tutte le persone del paese. Un canto religioso itinerante che si snoda tra i vicoli di Castro Cielo, Angelo, insegnante Ciociaro, ci racconta così la tradizione del suo paese che accompagna il periodo pasquale nelle otto contrade di questo comune del Frusinate, l'antica Aquinum, note che parlano direttamente al cuore e che portano indietro nel tempo. E' un richiamo praticamente del territorio, no? Io ricordo quando piccolo vedevo nonna oppure sentivo mia nonna cantarlo, che si emozionava e già quello praticamente tramandava una certa emozione, un certo significato per loro, no? Il canto della Palma è molto sentito dalla comunità di Castro Cielo in questa parte del Basso Lazio, molti gruppi che lo eseguono e che vedono insieme giovani e anziani. O bella mia speranza e andiamo cantando la Palma sono i due testi con le tonalità dei canti popolari. Io sono più legato a bella mia speranza perché lo sentivo da piccolo cantare da mia nonna e quindi... I cantori vanno di casa in casa. Buongiorno, la Palma si può? Cantate, cantate. In questa occasione vengono anche benedette le case e donati i ramoscelli d'ulivo. Questo ramo di ulivo viene benedetto dallo stesso sacerdote e quindi dato alle case con dei fiori di ornamento che pretende vengono fatti proprio manualmente dalle famiglie che compongono le squadre e viene dato all'interno di ogni famiglia come segno benedetto quindi non solo da un punto di vista popolare ma anche da un punto di vista ecclesiastico. Al termine viene offerto il dolce tipico pasquale della ciociaria, la cosiddetta pigna con gli aromi del passato. La Palma è nel DNA di Castrocelo e di Angelo che ama il suo paese. Io personalmente ho come luogo del cuore il monacato di Villa Eugelia che è incastonato praticamente sotto la montagna che è praticamente legato al Monte Cassino per esempio. Da Castrocelo lo sguardo si allarga al mondo. Un messaggio di pace che soprattutto noi sentiamo che arriva da lontano ma quelle che le notizie appunto ci arrivano dal mondo non può essere che forte più che mai in questo periodo. Per noi ce ne andiamo e poi restate noi.